L'impresa Cultura Italia è l'associazione delle imprese culturali e creative di Confcommercio, presieduta da Carlo Fontana, già sovrintendente alla Scala di Milano, Teatro di Bologna, presidente dell'Agis, insomma di tante istituzioni culturali del nostro paese. Sarà aperta da un intervento di Carlo Sangalli, che è il presidente nazionale di Confcommercio. Il tema è di grande interesse, è il rapporto tra cultura e turismo, quanto le imprese culturali, gli eventi culturali, le iniziative culturali determinano in termini economici per un territorio. Non a caso ci saranno anche rappresentazioni di case history, cioè di situazioni, compreso Ierosini Opera Festival, cioè quanto Ierosini Opera Festival dà in termini economici al territorio della città, che sarà esemplificata dal vice sindaco Daniele Vimini e con il ROFA anche altre esperienze a livello nazionale. Insomma si vuole fare un ragionamento supportato anche da tanti docenti universitari, anche dell'Università degli Studi di Urbino, ma anche di altre università italiane, sull'importanza che ha la cultura per l'economia del nostro paese e qual è il rapporto tra cultura e turismo. Noi di Confcommercio Peso Urbino, che abbiamo richiesto di poter organizzare questo evento a Pesoli in un'occasione di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, riteniamo che cultura e turismo siano due iniziative, due eventi, due settori che debbono dialogare sempre più strettamente per creare le opportunità di sviluppo economico del territorio, uno sviluppo economico basato sulla valorizzazione della bellezza, che è un po' il nostro progetto itinerario della bellezza che sarà presentato in anteprima proprio in occasione di Impresa Cultura Italia.